Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 febbraio. Vi dico subito che oggi i giornali sono molto divertenti perché la guerra italo-francese, se non fosse drammatica, sarebbe anche divertente nell'essere raccontata. Ne parleremo ovviamente a Quarta Repubblica lunedì perché è il tema dei temi, è Italia, Francia, tutti quanti oggi, Cazzullo, forse il più colto di tutti, anche il più interessante, si interrogano sui nostri rapporti con i cosiddetti cugini e sui rapporti storici. Io però non ho trovato nessuno, oggi posso essermi sbagliato, do un consiglio a voi che ci ascoltate, magari mi potete, buongiorno a Bartolomeo che vedo che ci sta guardando e tanti altri, Agostin, io non ricordo nessuno che citi Prodi che peraltro proprio ieri sui giornali diceva è incredibile il nostro atteggiamento con i francesi quando nel 1996, esattamente a ottobre del 1996, disse a Chirac, allora presidente della Repubblica Francese, gli faremo vedere i sorci verdi. E peraltro erano, diciamo, la mascotte, erano un simbolo dell'aeronautica militare sotto Italo Balbo durante il fascismo, grandissima aeronautica italiana, straordinaria, che vinceva ovunque. Gli faremo vedere i sorci verdi di Prodi non c'è perché qua l'Italia, posto che, voglio dire, siamo in un campo per cui è veramente difficile stare in mezzo perché o sei tifoso da una parte o dall'altra, io ovviamente non sono tifoso dell'idea che uno come Di Maio vada a incontrare uno come il capo, tra l'altro, diciamo, oggi l'ho visto intervistato, non così violento come lo dipingono i giornali italiani, ma con delle idee folle, folli come il rappresentante di minoranza dei gile gialli a Parigi, la trovo sconsiderata, c'è ragione Cazzullo, non ha incontrato un partito di opposizione, ma un movimento, diciamo, più o meno eversivo. Ma il punto fondamentale è che quando tu vedi che ci sono dei sindaci italiani che mettono la bandiera francese fuori dal loro municipio, quando vedi delle università che mettono la bandiera francese fuori dal loro municipio, quando vedi dei politici italiani che mettono la bandiera francese a posto, e segnatamente quelli del PD, al posto dei loro profili Twitter, beh, insomma, allora dici, ma siete scemi? Ma come vi permettete? Cioè, prima di tutto l'Italia, direi, ma non perché io sia un sovranista, ma perché lo pensavo quando criticavano Berlusconi, quando criticavano Prodi, quando criticavano D'Alema, quando criticavano qualsiasi presidente del Consiglio italiano, secondo me, se sbaglia, sbaglia, lo si critica, non lo si vota, ma l'idea di abbracciare non il popolo francese, ma un partito francese con le bandiere fuori dai nostri municipi mi sembra incredibile. Diverso ovviamente è il rapporto con i francesi, un popolo che non può non essere il nostro vicino da secoli, amico da secoli, cugino da secoli e molto simile a noi da secoli, quindi il tema non è i francesi, è il politico che oggi li sta guidando e che peraltro rappresenta una miraranza dei francesi, è molto interessante come i giornali italiani raccontino i giornali francesi, se tu leggi su Corriere della Sera oggi i giornali francesi sono tutti con Macron e tutti dicono quanto sono antipatici gli italiani, poi dopo vedi per esempio su Corriere della Sera la prima pagina di Liberation che invece di titolare sull'Italia rititola su Benalla, cioè un problema che c'ha molto concreto Macron con il suo ex guarda spalle, ma poi è molto divertente, io non lo so e non l'ho letto con attenzione, devo dire i giornali francesi, anzi non l'ho letto per niente, vedi poi la verità che è filo governativa a differenza del Corriere della Sera che dice il contrario, e cioè che i giornali francesi attribuiscono tutti a Macron l'esagerazione di aver iniziato contro l'Italia, cioè quel vomitevole dei partiti populisti, cioè ha scelto un campo Macron e quindi ne deve pagare le conseguenze, prima contro Orban, poi contro Salvini e oggi finalmente contro il Movimento 5 Stelle. Il messaggero prende un altro aspetto di questa vicenda, sulla quale io voglio i cretini che mettono la bandiera francese fuori dai loro municipi e dalle loro università, vorrei che la mettessero fuori anche dalle aziende italiane, cioè da quella ritorsione, come dice il messaggero, su migranti e all'Italia. Anche se questo problema della ritorsione vale poco, perché ragazzi state certi, come dice giustamente qualcuno oggi sui giornali, i francesi non vorranno prendersi all'Italia soltanto a chiacchiere perché da sempre la vogliono, perché vogliono prendersi il mercato italiano e perché non sopporterebbero che l'Alitalia se la prende Lufthansa, che è l'altra alternativa all'Italia. Il punto è quanto la spolpi, quanto la prendi. Alitalia è una di quelle cose, e in questo avrebbe Mario Giordano perfettamente d'accordo, che quando arriverà uno stranieri si prenderà i nostri aeroporti, i nostri passeggeri, il nostro traffico, e lo diretterà verso i loro hub. Punto. Poi detto questo, l'Italia perde tanti di quei milioni al mese, che certamente pensare di pagarla a noi contribuenti è una follia. Molto interessante, come sempre, Moria Longo sul Sole 24 Ore, che fa invece degli analisi molto puntuali. Sapete quanti parti dei titoli di Stato italiani hanno in pancia le banche francesi? Queste sono le cose importanti, non le minchiate, non le bandiere. 285 miliardi. Le nostre economie, dire che sono intrecciate è dire poco. I nostri Stati, dire che sono intrecciate è dire poco. Poi certo, l'atteggiamento dei governi francesi nei nostri confronti spesso è stato sprezzante, come quello del portavoce del governo francese, che ha detto che le nostre frasette polemiche, cioè degli italiani, non hanno impedito all'Italia di entrare in recessione. Un po' un sovrappiù da parte dei francesi nel godere che l'Italia sia in recessione. In tutto questo Salvini prova ad aprire in maniera un po' goffa i francesi perché dice al ministro degli interni vieni qua che parliamo dei migranti e quello gli risponde io non vengo convocato da nessuno. E a sua volta Salvini gli risponde. Questo è il quadro della vicenda. Direi che vi ho detto abbastanza tutto su questa storia su cui voglio andare avanti nei prossimi giorni. La produzione industriale ovviamente, ve l'ho detta, crolla del 5,5%, lo spread sale al 290%, insomma le questioni economiche da noi non vanno per niente bene e in realtà il crollo della produzione industriale è il peggior dato dal 2012. Insomma io non penso che il 2019 che come ha detto Conte sarà un anno bellissimo, mi auguro che lo sia ma temo che non stia partendo per le migliori condizioni economiche. Nel frattempo ovviamente i sindacati manifestano e manifestano non si capisce perché cosa. Cioè domani, anzi oggi c'è l'amministrazione di Cigelle e Cisle Will e a buon gioco Tridico, sottosegretario al lavoro, il comunista che oggi è al governo che dice ma scusate ma di che cosa stanno lamentando questi sindacati, stiamo facendo tutte operazioni di sinistra, io posso lamentarmi che non sono di sinistra ma ha ragione, Tridico a dire, i sindacati non riesco a capire su che cosa manifestino, dovrebbero essere con noi. Sulla questione francese interviene politica, interviene Berlusconi sul giornale che dice che non c'è nessun pregiudiziale dal suo punto di vista contro Salvini, anche se io penso che sia il contrario, e cioè che Salvini e Meloni siano un po', diciamo, come posso dire, tendano a tenerlo il più lontano possibile da loro e in più dice che, ed è questa la posizione secondo me più giusta sulla questione francese, sono distante da Macron ma non si può stare con i gilet gialli. È tra le cose che dice oggi in un'intervista lunga, rilasciata a Sallusti. Fantastico oggi il piantarello di Marco Travaglio, piagnucola sul suo giornale, dicendo non siamo l'ausorgan del Movimento 5 Stelle, una escusazio non petita in cui tira fuori qualche titolo in cui lui avrebbe attaccato il Movimento 5 Stelle, in realtà lui non attacca mai il Movimento 5 Stelle, lui fa politica di una componente del Movimento 5 Stelle, quella di Fico, quella di Di Battista, quella movimentista, quella giustizialista, insomma quella roba lì, no? E però, e poi dice, poi non è colpa nostra se dicono tutti bugie, insomma la TAV non l'hanno frenata, è stata frenata ma che volete che sia, nessuna opera pubblica è stata bloccata, insomma è come ieri che diceva che Guaidò non era un golpista, che Guaidò è un golpista, insomma è incredibile la posizione vera che tu devi trovare sul Movimento 5 Stelle, la becchi là, sul fatto quotidiano e devo dire che oggi vi segnalo questo piantarello, questa piagnucolata del fatto quotidiano. La Raggi perde l'assessore, e questa non è una novità, insomma sul fronte romano è sempre la solita storia, sì, hai ragione, non ci parla del film sull'Istria, neanche un pensiero, il film sull'Istria, ragazzi, domani è il giorno della memoria, leggerete il pezzo di concina che metterà domenatina sul mio sito, il film sull'Istria basta andarlo a vedere, non è che c'è molto da parlare. Comunque, la Raggi perde un assessore, Pinuccia Montanari dice che ha chiamato Grillo sul Repubblica e sul Messaggero ed è molto preoccupato, ma io direi che sono molto preoccupati i romani per i quali questa giunta perde un assessore al giorno, praticamente al mese, insomma è una roba incredibile, tra l'altro in posti chiave, come quello, la Pinuccia Montanari era quella che doveva risolvere i problemi della monnezza a Roma, direi che è la Raggi che ha risolto i suoi problemi cacciando un altro assessore. Beh, la storia di Bezos è stupenda, buongiorno Susanna, cioè l'uomo più potente del mondo, l'uomo più ricco del mondo, l'uomo che controlla gli acquisti in tutto il mondo, l'uomo che fa la pubblicità in tutto il mondo, l'uomo che vende i libri su tutto il mondo, l'uomo che ha distrutto le compagnie, le società editoriali di tutto il mondo, l'uomo che si è comprato il giornale più storico dell'America, il Washington Post, l'uomo che può tutto, dice, oddio, sono ricattato dal National Enquirer, che è un giornalaccio, sembra quello che esce dai film, dal libro American Tabloid, ve lo ricordate, quel libro stupendo che c'era quel giornale di pettegolezzi durante la rivolta castrista, beh, insomma, sembra il National Enquirer è quella roba là, è il gossip, che però è un gossip che come spesso avviene ci becca, e nel senso che ha beccato Bezos che ci aveva l'amante, e questa signora Sanchez, ex conduttrice di Fox, i giornali italiani vanno su questa vicenda del National Enquirer, che becca l'amante e che manda delle foto a Bezos, dicendogli, guarda che c'ho ben altra roba su di te, perché evidentemente cercavano un accordo, cosa orrenda, ma che tutti i giornali di gossip fanno al mondo, e non solo i giornali di gossip, anche i fotografi, beh, insomma, cosa diventa questo per l'Italia? Per l'Italia diventa Trump ricatta l'uomo più ricco del mondo, cioè Bezos, e financo i miliardari che si vogliono mettere in testa di candidarsi stiano attenti perché sono ricattabili dal National Enquirer. Questa è la solfa che oggi ci raccontano i giornali italiani, è una cosa incredibile, incredibile, cioè qua non si parla di Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo che dovrà dare metà del suo patrimonio a sua moglie, e quindi sarà comprensibilmente un po' incavolato. Non si parla del fatto che ci sono 12 foto con lei col sigaro, lui col pantalone, lei nuda, lei sul bagno, eccetera, cosa orrenda, ma che lui ha fatto? Non è che le ha fatte un fotografo, le ha fatte lui, lui, Jeff Bezos e lei, se le sono mandati e sono finite al National Enquirer, cioè se il Washington Post giustamente fa i grandi scoop del mondo, va benissimo. Se il National Enquirer fa la schifezza per cui è pagato, cioè esattamente quello, la monnezza, beh, quella diventa la, come si possiamo dire, il grimaldello di Trump contro gli uomini più... Come posso dirvi? È incredibile, è incredibile come qualcuno è al di sopra le parti, e quel qualcuno, in un mondo in cui c'è rompere le balle, sulla disuguaglianza, la ricchezza, eccetera, è il miliardario che ha tutti i mezzi di questo mondo, ma lui diventa l'eroino, l'eroina del politicamente corretto. Io la trovo straordinaria, la storia del Washington Post, e ci andrei più a lungo. Banca Italia diventa un caso, il fatto che ieri hanno litigato il Consiglio dei Ministri giovedì sulla nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia, e Di Maio voleva far secco l'attuale vice direttore, mentre Tria non voleva, e quindi Repubblica dice parte l'assedio alla Banca d'Italia. Cara Repubblica, ti segnalo che un anno e mezzo fa, prima dei Grillozzi, ci fu una mozione del PD, una mozione del PD che tu tanto segui, una mozione del Partito Democratico per far fuori il governatore della Banca d'Italia, che non viene nominato dal Parlamento, anzi, ci dovrebbe essere l'indipendenza dove eravate. Io dico, va bene, va benissimo. Cioè, ti viene voglia leggere i giornali italiani di fare esattamente l'opposto che ti viene voglia di fare quando leggi Facebook. In Facebook vedi solo questi Grillozzi con la bava alla bocca. Leggi i giornali italiani e leggi tutti questi uomini dell'establishment con la bava alla bocca. E non si riesce mai a trovare una posizione mediana. È giusto che un governo si occupi del vice direttore generale della Banca d'Italia? Ovviamente sì, se è nelle sue prerogative. E c'è nelle sue prerogative anche il fatto che il Ministro dell'Economia o il Ministro dello Sviluppo Economico abbiano delle proprie idee, e che Tria sia contrario, e che ci sia un dibattito. È giusto? Certo. Che poi dopo questi abbiano dimostrato di fare delle nomine assurde e un altro paio di maniche. Favolosa l'ultima questione riguarda l'Abruzzo. Domani votano un milione di persone in Abruzzo. Ed è una sfida importantissima. Il pezzo più bello di oggi, ve lo devo dire, è quello di Dalimonte, sul Sole 24 ore, che ci spiega tutte le partite in corso. Soprattutto il fatto che la Lega vuol diventare il primo partito e bisogna andare a vedere cosa succederà al Movimento 5 Stelle, che alle ultime politiche lì prese il 40%. Ed è collegato al ragionamento di quello che farà la sinistra con Legnini, candidato senza il sindaco del PD, a cui è appoggiato da sette liste, ahimè appoggiato anche dalla fondazione Einaudi, che non mi vedrà più tra i suoi fan, perché una fondazione Einaudi che si mette ad appoggiare Legnini in... Io dico non appoggiare nessuno se non trovi un liberale, ma se il campo della fondazione Einaudi è il centro-sinistra, beh, io non sono nella fondazione Einaudi più un suo, come posso dire, fan. Vedremo cosa succede in Abruzzo, chi vincerà, se effettivamente ci sarà questa vittoria della Lega e quindi questo è il dato politico fondamentale che la campagna elettorale è stata un disastro, dice Rita, che è l'unica di cui mi fido, perché è lì e ha delle idee assolutamente convincenti, come le mie... convincenti a poterli liberare. Ecco, eccoci qua, dove è finito il patriottismo, Einaudi ma davvero... Direi che per oggi è tutto, sul sito vi consiglio di vedere una intervista favolosa realizzata da Alessandro Gnocchi alla Fallaci, cioè il recupero di questa intervista fatta da Gnocchi alla Fallaci, quindi tutti i grandi fan della Fallaci andate sul sito nicolaporro.it e lì vedrete, insomma, qualche cosa che ci tira un po' fuori da questo track track quotidiano. Ciao! Ciao!